Questi piccoli animali saltano, vivono vicino all'acqua, cazzano insetti e sono pustolosi forti. Ma non sono rospi, sono le cimici rospo. L'ordine degli emitteri è un vasto gruppo di insetti che sono comunemente chiamati cimici, con numerosi aggettivi dopo. Ci sono le cimici d'acqua, le cimici assassine, le cimici di pizzo, anche se in realtà le vere cimici sono soltanto quelle della famiglia cimicide, in pratica le cimici dei letti. Un gruppo di emitteri piuttosto particolare è quello dei nepomorfi, che si sono altamente specializzati per la cazza in ambienti acquatici. Le loro caratteristiche principali sono le antenne molto corte e nascoste e le zampe anteriori, che nella maggior parte delle specie sono modificate e servono per catturare le prede. Queste sono costituite principalmente da altri invertebrati acquatici, anche se le specie più grandi possono catturare anche piccoli pesci e anfibi. Per nutrirsi, questi insetti utilizzano il loro apparato boccale a punta per succhiare i fluidi corporei della prede. Nei nepomorfi, che comprendono anche specie come gli scorpioni d'acqua, cioè le nepa, c'è anche una piccola famiglia di insetti, quasi deformi, che vivono sulle sponde di corsi d'acqua di mezzo mondo. Sto parlando dei gelastocoridi, o cimici rospo. A questo gruppo fanno parte circa un centinaio di specie, divise nei tre generi gelastocoris, montandonius e nertra. Queste sono diffuse nelle Americhe e regioni tropicali di Africa, Asia e Oceania, pure nelle isole sperdute dalla Melanesia. Il loro habitat preferito è costituito dalle sponde di corsi d'acqua, ma anche di paludi, stagni e pure delle coste marine. In realtà alcune specie di nertra, però, sono state trovate anche lontano dall'acqua, nella lettiera delle foreste e anche nelle piantagioni di banane. Sono insetti piccoli, arrivano al massimo al centimetro e mezzo di grandezza, e il loro aspetto è singolare. Il corpo somiglia a quello delle cimici d'acqua, ma è più tozzo, è di colore marrone o grigio, spesso con disegni che li aiutano a mimetizzarsi nel loro ambiente, un po' come fanno i nostrani asafidion, che però sono coleotteri. Sul corpo, poi, sono presenti anche gobbe e protuberanze, sempre per lo stesso motivo. Gli occhi sono rilevati rispetto al capo, in pratica spuntano verso l'alto. Ciò consente un campo visivo più ampio. Questi insetti, infatti, sono predatori, che cazzano altri piccoli animaletti afferrandoli con le loro forti zampe anteriori, provviste di spine all'estremità. Già qui il nome di cimici rospo sembra giustificato appieno, però c'è un'altra somiglianza con questi anfibi. Anche i gelastocoridi saltano, utilizzando le zampe posteriori. Utilizzano questa caratteristica per cacciare. Infatti, saltano addosso alle loro prede, cogliendole di sorpresa e afferrandole poi con le zampe anteriori. Un comportamento simile si trova anche nei ragni della famiglia Salticide. Anche la storia evolutiva di questi insetti è particolare. Infatti, sembra che i loro antenati si fossero adattati a una vita prettamente acquatica e che siano ritornati alla terraferma solo successivamente. Questo ce lo testimoniano anche due specie fossili del genere cratonertra, che sono state ritrovate in Brasile e risalgono a circa 120 milioni di anni fa. Inoltre, sono state trovate anche altre due specie, un gelastocoris e una nertra, un po' più recenti, hanno circa sui 100 milioni di anni. Queste sono state ritrovate nell'ambra del Myanmar. Attualmente, i gelastocoridi sono presenti un po' tutto l'anno nelle regioni tropicali e compaiono agli inizi della primavera in quelle temperate. Il ciclo vitale è univoltino, con una generazione l'anno. L'accoppiamento avviene circa a maggio e le uova sono deposte negli stessi ambienti frequentati dagli adulti, a volte fra le alghe delle rive. Gli esemplari immaturi si possono trovare durante l'estate e si distinguono dagli adulti soprattutto per l'assenza delle ali.